Sono venuto solo per la sfera, sai bene di che cosa hai capace, non è vero, sappiamo entrambi la verità, dimmi di risa, cosa è successo dopo, dopo che hai chiuso gli occhi, cosa hai visto, quali ultimi mostri hanno invaso la tua mente, quali incubi, quali angosce, quali visioni. Sogni d'oro Peter. Loro, loro non sono di questo mondo.